Così ho deciso con tua madre. Noi non siamo né ricchi né poveri e così resterai tu con tua moglie e i tuoi figli. Un borghese, classe media, chiaro? Le disgrazie capitano più ai ricchi e ai poveri che alla classe media. Noi ce ne stiamo rintanati al coperto. Hai capito? Al calduccio.